Finalmente in vacanza! I mostri Sorridete Grazie Sono tornati Sorpresa! Sarà un'avventura Oh diavolo! Indimenticabile Decido Oh diavolo Oddio Tanto è uguale Wow Oh mamma mia Dennis Chi è lui? È il nostro amico Bob Di ciao Bob Ciao Bob Hotel Transilvania 3 Hotel Transilvania 3 Wow Siamo arrivati Il triangolo delle Bermuda Sorpresa! Oh Si va in vacanza! No 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 A grandi abbuffate Giuro Ragazze Andate a vederlo Andate a recuperarvelo Perché è una cosa fantastica Io mi sono divertita un sacco Ho urlato fino No 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 Però ero contenta Hotel Transilvania Bellissimo Dal 22 agosto al cinema Salvere Alla pocket'ом Assista-voi